Il voto degli italiani non è una mandria di cavalli selvaggi impazzita, è una decisione che è frutto di un lavoro ampio fatto da persone competenti, i famosi professoroni e anche da qualche gufo che è uno splendido animale e che quindi come tale andrebbe rispettato. Quando l'affluenza alle urne è così alta bisogna rispettare la volontà dei cittadini italiani che con grande sensibilità democratica si sono recati in massa alle urne, già questo per noi è un grande risultato, non abbiamo mai chiesto le dimissioni di Renzi, ci aspettiamo che adesso il governo risponda con responsabilità al pronunciamento dei cittadini italiani qualunque esso sia. Il prossimo passo è chiedere finalmente l'attuazione della Costituzione perché gli italiani hanno capito bene che la crisi non dipende dalla Costituzione ma dipende da cattive riforme e dal non aver interpretato il loro bisogno di diritti a partire dal lavoro, a partire dal rispetto della solidarietà sociale e della meritocrazia di una società più giusta da tutti i punti di vista.